Ho scelto il Pfizer perché è il più sicuro. Ho scelto Sputnik perché è stato testato su di me. Ho scelto AstraZeneca perché l'ho vinto alla lotteria degli scontrini. Come effetti collaterale, a parte un po' di febbre il giorno dopo, non ho avuto niente. Io sto bene, anche se dovessi stare male, devo dire che sto bene. Devo dire che con due gazzi mi trovo meglio. Su mille persone, soltanto uno ha avuto una reazione allergica. Su mille persone, soltanto tre non hanno sviluppato l'immunità. Su mille persone, so vivo solo io. Col mio si è vaccinato Obama e sta benissimo. Col mio si è vaccinato Putin e in un giorno è guarito. Col mio si è vaccinato Agliello e avete visto cosa è successo. Il mio vaccino lo si trova nei centri di malattie infettive. Il mio nelle farmacie specializzate. Il mio lo trovo in tutte le edicole che hanno avuto l'iniziativa. Se continuiamo con questo ritmo, entro sei mesi vaccinano tutti. Se continuiamo così, in otto mesi debelliamo il Covid. Se continuiamo così, fra un anno serve un vaccino per l'AstraZeneca. Grazie. 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 Grazie.